Questa iniziativa per noi è molto importante perché permette di parlare di quel che facciamo per le aziende che sono presenti a questo importante evento e di farci conoscere. Farci che conoscano i nostri servizi e far sì che apprendano e comprendano la nostra metodologia che per noi è il primo passo per una collaborazione futura molto profittevole per i nostri clienti. Quello che noi facciamo è di portare un beneficio finanziario ai nostri clienti a costo zero, ma non solo, non ci fermiamo qui. Oltre al beneficio finanziario che è tangibile, li accompagniamo a un processo di miglioramento continuo nei vari processi aziendali, dalla negoziazione che è fondamentale per i retailers fino alla fase di pagamento, per cui un processo continuo che comprende il 100% delle loro negoziazioni.